Ciao, sono Bruno Labarbera della Vale Immobiliare, ma ormai ci conosciamo, è già da un po' di tempo che ci frequentiamo. Oggi ti porterò a vedere un immobile proprio qui vicino, in via Cavour 26, accanto alla nostra agenzia, all'interno del quale svolgeremo un open house. Che cos'è un open house? Un open house è una tecnica di vendita che aumenta esponenzialmente le possibilità di vendita del tuo immobile, facendo sì che più persone possono vedere quella casa in quell'arco di tempo prestabilito e quindi aumentandone la competitività. Se c'è qualcuno interessato a casa tua sei d'accordo con me che non vorrà farsela scappare, giusto? Ma andiamo avanti, vieni con me, ti mostrerò questo bellissimo immobile. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Vale immobiliare, diamo valore alla tua casa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti